Si voterà a maggio in un'unica data che unirà le preferenze per Parlamento Europeo, regionali e comunali. A confermarlo ieri il Vice Ministro Filippo Bubbico, che ieri alla Camera dei Deputati ha risposto alle interrogazioni presentate dai deputati abruzzesi di SEL Gianni Melilla e Gianluca Vacca del Movimento 5 Stelle. La decisione è quella di evitare che i cittadini spendano più soldi. A favore della data unica invece il Presidente della Regione Abruzzo, che oggi commenta così le polemiche mosse dall'opposizione che paragona la scelta della Camera a quella di Pilato, che nel Vangelo di Matteo rappresenta l'unica autorità capace di decidere la condanna a morte di Gesù e che alla fine se ne lava le mani. Intanto non sono molto ferrati su quelli che sono i fatti storici. Pilato non prese una decisione, io invece ho preso la decisione. Le elezioni avrebbero dovuto essere fatte a marzo e poi ci sarebbero state le europee a maggio, quindi di conseguenza i cittadini abruzzesi avrebbero speso 16 milioni di euro, perché due sono le tornate elettorali. In questo modo se ne spendono la metà. E poi un'altra notizia che circola, in qualche modo da Alfonso si dice che si presenterà le elezioni per la Presidenza della Regione, Gianni Chiodi è preoccupato oppure no? Questa è una cosa che non ci fa dormire la notte. Un candidato prima o poi ci sarà del centro-sinistra e qualunque dovesse essere il candidato si dovrà misurare con chi ha risanato l'Abruzzo, quando invece quando loro governavano l'hanno distrutto. Soprattutto anche da un punto di vista nazionale avevamo una reputazione che era quella sì molto denigrata, quindi chiunque dovesse essere sarà. Poi ci sono tante differenze, siamo molto differenti, sia io, Legnini, D'Alfonso, Lolli, Pezzopane, siamo molto differenti e di questa differenza io ne sono fiero.